Alessandro, un gol importante, quello di oggi, il tuo primo stagionale e poi nell'esordio dal primo minuto con la primavera. Mi descrivi un po' che emozione hai provato? Sì, è sempre un grande emozione giocare per questa maglia, poi l'esordio dal primo minuto con la primavera è una grande emozione, trovare anche il primo gol dal primo minuto, quindi bene. Hai ritrovato in attacco Cazzadori, che ha condiviso con te appunto l'avventura lo scorso anno in Under 18 e non solo, però in generale c'è un forte gruppo della scorsa formazione Under 18 e in generale altri ragazzi che ci sembrano facciano un gruppo molto unito. Mi dici un po' che spogliatoio siete, insomma, che gruppo è questa primavera che sta nascendo? Siamo tutti molto uniti, ci troviamo bene, anche con Dennis, ormai mi conosco da tanti anni, gioco insieme a lui da un sacco, mi trovo sempre molto bene giocare con tutti, comunque siamo un gruppo molto unito. Un'emozione tua di come stai vivendo questo percorso, che ormai è arrivato circa al settimo anno nel settore giovanile, come ti trovi qui, insomma, tu che poi sei appunto veronese e lo vivi con un'emozione, un trasporto particolare. Esatto, esatto, essendo di Verona è appunto una grande emozione giocare per la squadra della propria città, però ho la fortuna di giocarci da un po' di anni.